Quello che vedete è il vin santo di Vigoleno, un prodotto di nicchio, un vino licoroso, un passito veramente eccezionale, si produce solamente nel territorio piacentino. Mi trovo a Pollossi di Vigoleno, appunto un comune di Vernasca, siamo al confine con Salso Maggiore Terme, quindi a un tiro di schioppo c'è il comune di Parma e sono in compagnia di Giuliano Visconti, che è titolare, insieme anche ai cugini di questa cantina, Cantina Visconti appunto. Siamo partiti da questo perché è una cantina, un'azienda che produce vino a tutto tondo, ma mi piaceva partire con questo vin santo perché è veramente una chicca, una nicchia di mercato, una cosa molto particolare, che poi ci spiegherà Giuliano, perché qua insomma erano territori dove il clero aveva un'influenza molto importante, gli agricoltori producevano in funzione anche di un consumo che veniva fatto a Roma nell'ambito ecclesiastico, territori Giuliano mi sono documentato dove qua si coltivavano molti olivi, tant'è che noi ne abbiamo visti ancora tanti, poi sono stati stirpati, sono stati soppiantati dal vino, ma anche tante altre produzioni. Allora Giuliano adesso faccio parlare un po' te, siamo partiti da questo vino che è una caratteristica di questo territorio, vino che producete in pochi, però due parole sulla tua azienda, un'azienda che nasce anni addietro ad indirizzo vitifeticolo, quanti ettari di vigneto avete nella vostra azienda? Siamo sui 9 ettari di vigneto, 9 ettari di vigneto coltivati tutti su terreni molto calcare bianchi. Terreni molto particolari quindi che si adattano a questa produzione di vino, ma che non è l'unico che producete, quindi 9 ettari di vigneto su una superficie complessiva di quanto Giuliano? Siamo sui 60 ettari di vigneto di tutto però complessivo e seminativo, bosco, fieno, che facciamo anche fiena zone, cereali, grano duro, poi ci sono le aree boschive e logicamente i vinesi. Vin santo, ma non solo, voi siete specializzati nella produzione di vini del territorio, l'Ortrugo piuttosto che altri... Sì, il Monte Rosso, l'Ortrugo, il Monte Rosso, la Malvasia, la Barbera, la Bonarda, poi c'è da 4-5 anni, facciamo la Santa Maria, che è un uvo autottona, che poi spiegano perché si chiama Santa Maria e quant'altro, e poi facciamo il Cabernet Sauvignon Merlot, e abbiamo anche il Sauvignon e lo Chardonnay. Sono molto curioso, questa Santa Maria è un vigneto autottono, poi magari andiamo a vedere direttamente in campo, ne sono rimasti i pochi sul territorio, quindi voi l'avete recuperato? Praticamente noi siamo concessionari delle nostre piante, abbiamo dallo Stato italiano e dalla comunità europea un vivaio che ci fa le piante in base alle nostre esigenze. Noi portiamo i rami delle nostre piante, questo vivaio ci fa le piante e mettiamo i vignenzi, i pianti nuovi. In quanti siete di produttori del territorio che coltivano la Santa Maria? In otto. Otto produttori, quindi otto produttori che fanno anche loro il vilsanto. Vi siete riuniti in un consorzio, avete fatto gruppo? C'è questa associazione produttori vilsanto di Vigoleno che è nata nel 2009 e tutt'oggi promuove questo prodotto e abbiamo una struttura adattaci dal comune di Vernasca a Vigoleno, proprio nel castello, dove ognuno di noi può vendere il proprio prodotto tutti insieme. Ma quante bottiglie complessivamente vengono prodotte di Vinsanto? Ho produttori, faremo 1500 bottiglie da mezzo a letto. E tu quante ne fai? Noi ne facciamo 500-600, da 375 però. Senti Giuliano, mi ha molto incuriosito questo vigneto, allora noi abbandoniamo un attimo questa cantina perché ci ritorneremo, perché spiegherai come avviene la produzione di Vinsanto, che è un'operazione molto laboriosa, ma sono curioso di vedere intanto il territorio, ma anche i vigneti, questa Santa Maria. Adesso non è ancora matura, però insomma vediamo magari le sue caratteristiche. C'è già il grappolo, si vede già. Si vede già. Giuliano, quindi questa è un affaccio su una vallata, come si chiama questa vallata che noi vediamo? Vallongina. Vallongina, quindi un altro torrente questo. Si. Invece alle spalle, nostre spalle, c'è la Vastironi. La Vastironi, quindi abbiamo detto sei in zone di preparco. Questo è anche agriturismo, se mi dicevi, quindi avete ospitalità rurale e questo è un bel terrasso dove poter ospitare anche i vostri ospiti. Si, facciamo delle rasse, praticamente facciamo degli eventi dove abbiamo tanti tipi di vino, un venerdì sì e un venerdì no, facciamo un vino bianco, un vino rosso, abbinato alla torta fretta, al salume, ai formaggi. Così la gente li facciamo abbinamenti con i vini rossi e i vini bianchi e li facciamo sentire i vari formaggi e salumi della zona. Senti, negli anni mi dicevi che il territorio è cambiato, ci sono state frane, il cambiamento climatico ha fatto sì che ci siano anche delle considerazioni nuove che voi avete fatto, quindi terre più scure che una volta erano boccate per il vigneto che poi invece col caldo avete dovuto modificare o comunque piantumare in altre zone, più calcare, dico bene? Esatto, abbiamo dovuto toglierle da questi terreni più scuri, meno calcare, meno ricchi di sedimenti, perché la pianta soffriva e lo stress del sole, del cambiamento climatico li uccideva, quindi abbiamo dovuto togliere i vigneti e metterli in terreni più chiari, più bianchi, più ricchi di sedimenti, più freschi, che la pianta soffre meno la siccità e poi adesso andiamo a vedere sul vigneto anche il metodo di potatura che usiamo noi non sono estremi ma molto ristretti per far sì che la pianta mantenga totalmente energia per produrre meno uva ma molto più buona. Quindi tanta manualità anche nella raccolta, peraltro. Qual è la resa, diciamo, delle vie? Parliamo della Santa Maria che poi andiamo a vedere. Una resa media qual è? La Santa Maria è un ettaro, adesso arriveremo a farne 20-30 quintali di uva. All'ettaro, quindi è molto zuccherina. Sì, abbiamo una zuccherina molto elevata. Mentre invece altre varietà sono un po' più generose. Sì, se mi parli sulla Barbera, sì, se vai su Barbera, su Bonarda, che bene così, siamo sui 100 quintali. Cioè adesso, poi l'anno scorso abbiamo fatto anche meno, è stata una siccità bestiale, siamo arrivati a 60. Qui non ci sono le condizioni per irrigare, quindi si fa con l'acqua che viene dal cielo. Esatto, sì. Andiamo in campo. Abbiamo risalito il vigneto, Giuliano diceva che questo è uno dei meno, diciamo, scoscesi, ma a me non sembra, anche perché la giornata è molto calda. Lui e Nicola, buongiorno Nicola. Allora, vi vediamo in campo a fare le operazioni. Allora, ci ha raccontato Giuliano un po' di cose sulla Santa Maria, sulla Melara. Questo è un vigneto di Santa Maria. Allora, intanto descrivici le caratteristiche di questo vitigno che noi non conoscevamo, onestamente. Le caratteristiche che sono, è un uva e una varietà che si attacca al territorio. È una varietà che praticamente rende molto a livello fogliare, ma anche a livello di grappoli. A livello di grappoli solo se c'è il suo terreno, il suo territorio, il suo microclima. Quindi, terreni poveri, argillosi, calcari, non troppo ricchi di sostanze. Quindi in pianura non andrebbe bene questo vitigno? In pianura no. Farebbe foglia e basta. E io non me ne intendo molto, però ad esempio vedo questo grappolo, vedo un'acinellatura particolare. È la sua caratteristica, cioè il chicco che resta piccolino? È un grappolo, adesso qui siamo in acinellatura, sta ingrossando il grappolo, però è un grappolo che quando arriva a maturazione è molto compatto. E nel caso del Vincanto di Vigoleno vengono scelti i grappoli un po' più aperti, sia nella Santa Maria che nella Melara, e quelli perfetti. Viene raccolta leggermente prima della maturazione completa nel Vincanto e invece negli ancestrali quando è matura. L'unica cosa è che la Santa Maria sviluppa tanta botrite. È una malattia fungina, no? Sì. Per, diciamo, i non addetti ai lavori. È una malattia. Questa è una malattia che comporta problemi dopo nella vinificazione? È una malattia fungina, ma però la Santa Maria sviluppa sia la botrite nobile che la botrite non nobile. Siamo poi noi a scegliere, quando siamo sui gratizi, che è lì che si sviluppa la botrite nobile, poi a scegliere lì sui gratizi la l'uva più bella. Ok. Quella botretizzata bene e quella botretizzata male. Invece la melara anche quella ha le stesse caratteristiche oppure? La melara fa un appassimento come un malvasia, quindi un appassimento senza botrite, un appassimento come tutti gli altri passiti, quindi l'acino si disidrata, nel caso del vin santo. Come vinificazione viene aggiunta negli ancestrali un pochettino nella Santa Maria. Nicola, abbiamo parlato tanto del vin santo, però voi non producete solo vin santo, anzi è una minima parte, molto importante, perché comunque è una nicchia di mercato e soprattutto piace tanto, però avete anche vini internazionali, vini autottoni, che sono l'ortrugo, ne cito uno, no? Voi cosa producete qua? Noi produciamo in generale, abbiamo uve bianche di Santa Maria, melara, poi abbiamo l'ortrugo, la malvasia di candia aromatica, abbiamo anche due vitigni internazionali che sono lo chardonnay e il sauvignon, il trebbiano romagnolo, e queste uve tipo lo chardonnay e il sauvignon sono due uve che sono state importate qua, perché un po' il territorio e la tradizione, i francesi ci sono stati per un bel po' di tempo qua, e quindi ci hanno lasciato un pochettino anche queste uve che sono internazionali, francesi, chardonnay e sauvignon, anche il marsan, che noi non abbiamo, però nel territorio c'è. C'è qualche cosa, insomma. Sì, sì, sì. Quindi insomma, diciamo negli anni, insomma la storia, chi ha, diciamo, negli anni operato sul territorio, ha lasciato traccia. Bene, noi possiamo intanto avvicinarci, perché è giunto il momento di assaggiare anche questo vincanto, e non solo. E non solo. Voi producete solo ancestrale, dicomene. Noi produciamo solo ancestrale e a livello di terreni non facciamo diserbi e non utilizziamo pesticidi tali da andare a distruggere i lieviti che stanno sul grappolo. sono importantissimi poi per fare una fermentazione naturale con i suoi lieviti indigeni. Con i lieviti indigeni. È importante negli ancestrali, perché se no, se tu aggiungi lieviti, non è più ancestrale. Senti, un'ultima domanda, un po' quello che sta preoccupando i viticoltori del territorio emiliano-romagnolo è la flavescenza dorata, questa malattia. In queste colline avete già avuto qualche sintomo oppure ancora siete rimasti indegni? In questo periodo, negli ultimi dieci anni, un po' è stata debellata con i vari estirpi. Prima c'era un po' di più, ma in questa zona la flavescenza è stata controllata. Sì, sì, sì. Beh, insomma, questo è un aspetto positivo. Anche di buon auspicio per i viticoltori, i vostri colleghi, che invece sono le prese, mi riferisco in particolare al centro Emilia, dove lì invece è molto aggressiva, anche se stanno cercando di contenerla. Bene, parlavamo del Vinsanto, andiamo a sentire questo Vinsanto. Vinsanto.